Ciao a tutti, io sono Irene Guarneri, lavoro a CNRI Smart di Venezia. Ho avuto la possibilità, grazie a Successione Ecologica, di fare questo minicorso che sarà disponibile dalla prossima settimana su sito. Questo corso sarà incentrato sull'analisi d'immagine e sulla morfometria geometrica. I software utilizzati per il corso sono software open, disponibili online. Uno di questi è Image AI che permette di manipolare le nostre immagini, ad esempio possiamo aggiustare il colore, togliere il rumore, applicare un gran numero di filtri. Possiamo anche utilizzare delle funzioni più complesse con l'Image Calculator che ci permette di definire gli elementi che compongono la nostra immagine, di conteggiarli, di misurarne la dimensione e di definire l'area che questi occupano all'interno dell'immagine. Un altro software, MorphoJ, anch'esso disponibile open online, può essere utilizzato per studiare la forma degli elementi presenti nelle vostre immagini. Io ad esempio l'ho utilizzato all'interno del mio dottorato per studiare la forma di molluschi della famiglia degli unionidi che sono a volte difficili da distinguere proprio per la loro ampia variabilità fenotipica. In particolare vi sono alcune specie autoctone e alcune specie aliene appartenenti al genere senanodonta. La senanodonta pudiana è stata ritrovata in diversi siti e ha presentato un'ampia variabilità morfologica e questa è stata appunto indagata attraverso l'utilizzo di questo software e ha permesso appunto di distinguere le popolazioni campionate in due siti molto distanti tra di loro. Vedremo meglio tutti questi aspetti nel corso della settimana prossima. Una cosa importante che vi devo dire è che questi software hanno dei pacchetti che possono essere utilizzati con R, per cui se avete familiarità con questo ambiente potete anche operare direttamente con R. Io per il momento vi ringrazio e vi aspetto la prossima settimana sulla pagina di successione ecologica. Ciao!